Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi di Giusella Tigre i Pesci, storia originale di Seiko Tanabe da cui sono stati tratti un film d'animazione e un manga composto da due volumi. Non ho letto il romanzo ma sono andata a vedere al cinema, visto che è proprio nelle sali italiane in questi giorni il film, in più ho letto il manga. Vi racconterò un po' la storia, le mie impressioni, che cosa mi è piaciuto, che cosa meno, e se ci sono eventuali differenze fra manga e film d'animazione, ovviamente senza fare spoiler. Questa è una storia di due ragazzi sui vent'anni, Tsuneo studia all'Università Biologia Marina e da sempre ha questo grandissimo sogno di poter andare in Messico, per cui oltre a studiare fa diversi lavoretti per mettere da parte i soldi e per mettersi un anno di studio all'estero. È molto appassionato di mare e pesci, tant'è che fa delle immersioni, e lavora anche in un negozio che si occupa appunto di articoli per le immersioni. Un giorno tornando a casa si scontra letteralmente con José, una ragazza poco più grande di lui, sulla sedia a rotelle. Stava facendo una passeggiata con la nonna quando a un certo punto la carrozzina è andata fuori controllo e quindi precipita nelle braccia di Tsuneo. Per ringraziarlo la nonna lo invita a cena e scopre che questo ragazzo ha bisogno di soldi, insomma sta mettendo da parte una cifra e quindi gli offre un nuovo lavoretto, occuparsi di José. Nonostante abbiano età simili non potrebbero essere più diversi questi due ragazzi. Tsuneo ha una vita molto ricca, piena di possibilità e ha un grandissimo sogno da inseguire. José d'altra parte si ritrova chiusa nel suo piccolo mondo perché infatti non può camminare fin dalla nascita, ha perso i genitori e l'unica persona che le rimane è proprio la nonna. Che non la fa uscire praticamente mai, è concesso a José soltanto qualche passeggiata notturna, lontano da occhi indiscreti. A fare da cornice questa storia quotidiana che parla di crescita, di sogni, di speranze, di limiti non soltanto fisici, c'è il mare. Molto spesso la fantasia soprattutto di José di poter essere libera come un pesce nell'oceano invece di essere rinchiusa nel suo piccolo acquario, si fonde con la realtà e vediamo queste bellissime animazioni in cui lei nuota appunto in una città fatta d'acqua. Secondo me è un'immagine bellissima ma anche molto potente che ci fa capire quanto la ragazza sogni di poter essere libera, di quante cose ancora deve scoprire e conoscere. Si parla anche di disabilità e una cosa che mi ha colpito molto è che la storia è ambientata in Giappone, uno dei paesi che lavora maggiormente per limitare e diminuire le barriere architettoniche tant'è che vediamo José prendere i mezzi, andare in giro senza particolari difficoltà. Tuttavia c'è ancora tanto pregiudizio verso le persone disabili e soprattutto vergogna da parte dei parenti. Infatti la nonna non esce mai con José se non la sera tardi quando non c'è nessuno che le possa insomma guardare. Da una parte lo fa sicuramente anche per evitare che le persone possano farle del male nel senso andarle a sbattere o magari ferirla anche solo con degli sguardi. Però un altro motivo è sicuramente la vergogna. Ho apprezzato lo sviluppo dei vari temi, alla fine è una storia che anche se è stata scritta tanti anni fa secondo me ben si adatta alla realtà ad oggi soprattutto quella dei giovani che hanno dei sogni che vorrebbero portare avanti o comunque che vorrebbero esaudire e si devono un po' scontrare con la dura realtà ad oggi o con gli imprevisti della vita. È anche una storia sentimentale ma non sdolcinata. Non è da dire sulle animazioni del film le ho trovate bellissime, i disegni sono quasi identici alla fine a quelli del manga quindi se leggete prima o dopo il fumetto sicuramente rivedrete molto più facilmente i personaggi, li riconoscerete a colpo d'occhio e anche la colonna sonora devo dire che è veramente molto carina. Non fra le mie preferite però secondo me ben si adatta al film, è molto piacevole. Magari vi lascio qualche video qua sotto. Penso si sia intuito che a me la pellicola e la storia in generale si hanno piaciute molto ma ho trovato comunque diciamo dei difetti o comunque delle cose che non mi hanno convinta appieno. Innanzitutto non c'è molto spazio per indagare in maniera profonda i personaggi in particolare quelli principali ma i secondari secondo me sono ridotti un po' agli stereotipi. Se avete già visto qualche film d'animazione giapponese o visto qualche anime sicuramente rivedrete i classici personaggi secondari, anche alcune dinamiche sono abbastanza scontate. Però la cosa che mi ha irritato di più è che ci sono degli eventi che succedono semplicemente per convenienza. Ci sono degli spedienti narrativi che proprio mi hanno fatto alzare gli occhi al cielo perché non li ho trovati, come posso dire, del tutto necessari. È come se in certi punti la storia dovesse per forza essere particolarmente drammatica anche per cose che drammatiche non lo sono in realtà. L'atmosfera diventa proprio esagerata, anche le musiche c'è una tensione crescente per cose veramente molto semplici. È come se si volesse forzare il fatto di essere drammatico. Questo a parer mio fa perdere di credibilità ed è un peccato perché la storia nel complesso è comunque molto carina pur rimanendo una storia quotidiana piuttosto semplice. Non aveva secondo me bisogno di grandissimi gesti o di particolare drammaticità. La storia del film è praticamente identica a quella del manga. Ci sono piccolissime sfumature diverse, magari impercettibili, quindi la storia è veramente la medesima. Nonostante questo io ho apprezzato leggermente di più il film, probabilmente per le animazioni, il fatto di poter vedere tutto a colori e sicuramente il mix immagine e musica, suono, il doppiaggio italiano alla fine è favoloso. Il tutto è riuscito nel complesso ad essere forte, a comunicare in maniera efficace la storia comunque di questi due giovani e a commuovere perché sì, secondo me qualche lacrima la verserete anche voi. Non è il miglior film d'animazione che io abbia mai visto ma nemmeno il peggiore. Nonostante i difetti o comunque delle cose che non mi hanno convinta totalmente, mi sono goduta la storia, l'esperienza, il film e nella prima parte, ho riso tantissimo, la prima parte in generale della storia è la mia preferita, quella in cui incominciano i due personaggi a conoscersi perché si susseguono degli episodi quotidiani che ho trovato teneri, divertenti, spiritosi, in cui è veramente molto facile rivedersi. Per cui io mi sento di consigliarvi sia la visione del film che il manga, so che molte persone non hanno ancora la possibilità di andare al cinema, il film verrà comunque proiettato soltanto per pochi giorni, quindi nel caso, come vi dicevo, la storia del manga è la medesima, se siete curiosi potete intanto leggervi appunto la storia in attesa di poter guardare poi il film. È un film che secondo me chi ha amato Voglio mangiare il tuo pancreas e la forma della voce apprezzerà particolarmente, manca forse un po' della profondità di questi due film, ma secondo me gli elementi per farvi innamorare ci sono tutti anche in Giosella Tigre e i Pesci. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se avete già visto il film d'animazione o se avete letto il manga, quali sono state le vostre impressioni al riguardo, insomma confrontiamoci un po', io spero di avervi tenuto un po' di compagnia e che questo video possa esservi stato utile, ci vediamo alla prossima, ciao!